Ora abbiamo il terzo ragazzo importante, è la parte tra l'arraggio e il driver, è l'enginio, e questo è il signor Binotto. Voglio presentare a te, è l'ingegnero engine e ora il head del gruppo dell'enginio, signor Binotto. E magari puoi spiegare un po' di cosa fai nel carico durante un'esercizio di raccoglione e così on. Ok, in italiano... In italiano... è andato a seguire l'affidabilità, il corretto funzionamento del motore sulla vettura di Michael, e quindi assicurarsi che tutto vada come debba andare, ottenere la massima prestazione, la massima affidabilità dal prodotto che conosciamo. E quindi assieme a lui è importante che noi collochiamo per garantire il corretto funzionamento dell'insieme. Esatto. Grazie, e ci vediamo per la meeting. No, no, dopo. Ok. Ok, so this was my three most important people, they're working very close to me. Little introduction and I guess the program will... ...